raga è il triste destino di tutti noi umani sono finite le ferie e si torna a zappare a zappare che è quello che dovrebbero fare certi canali che vi chiedono tutti i giorni donazioni o abbonamenti per farvi vedere chissà che un po come i canali del regolamento del tifoso quelli di smigon e del piccolo del grande buddha che se zappassero un po di più smetterebbero di rompere i coglioni alla gente ma di questo ne parleremo magari nel pomeriggio nel frattempo iscrivetevi al canale lasciate un bel pollice in su perché abbiamo molto da parlare non possiamo perdere tempo abbiamo da parlare di bologna milan che ci ha fatto coderi come dei sorci io sono stato felice poi si può dire quello che si vuole della partita ma la prima cosa che dobbiamo dire è che era la prima di campionato la prima partita di campionato lascia sempre delle insidie insidie importanti perché c'è caldo c'erano 36 35 gradi l'ho visto anch'io mentre tornavo a casa che sono sudato ho sudato come un come come pumba figa perché faceva davvero caldo poi comunque si devono riare i meccanismi il gioco non è fluido come sempre come sarà fra quattro cinque sei partite e quindi ero preoccupato preoccupato perché comunque noi rispetto agli altri promettevamo in campo una formazione molto nuova una formazione nuova quindi non era facile e invece raga ho visto un gran bel primo tempo io voglio sottolineare il primo tempo quando comunque le energie sono al massimo ho visto una un'asse renders pulisic fenomenale fenomenale io adesso piano piano mi soffermo sui singoli ieri in difesa siamo andati un po meglio un po meglio perché abbiamo ancora lasciato diverse occasioni però nei 90 minuti qualcosa devi pur concedere agli avversari se vuoi proporre un calcio offensivo come quello che vuole proporre il milan ieri ho visto qualcosa di nuovo nel milan un milan che gioca a tutto campo un milan che con i nuovi soprattutto ha cercato sia leao che pulisic perché finalmente sugli esterni abbiamo due fuori classe ieri pulisic soprattutto ma lui è stato uno di quelli che nell'arco di tutta la partita ha mostrato grande calcio ha fatto un gol strepitoso da fuori ma ha visto ha fatto la giocata per renders che poi mette in mezzo la palla e arriva il gol di oliver giru a quella classe che spicca si vede che in campo pulisic ha qualcosa di più rispetto alla media di quello che si vede in serie a infatti secondo me nell'arco della stagione sarà quel fuori classe che darà quella mano a far crescere anche tutti gli altri il gol che ha fatto da fuori aria sono gol che non si vedono spesso nel nostro milan è stata un'intuizione pazzesca da fuori classe e l'abbiamo sempre detto la questo di pulisic se sta bene che non ha degli infortuni abbiamo preso un top player a pochi soldi quindi è stata una zegnalata di moncada e furlani a cui vanno fatti complimenti però ne parleremo di più a fine stagione perché lo sappiamo tutti la fragilità di pulisic ma se c'è questo davvero ci può far fare un grande salto di qualità renders renders a qualità disumane disumane cioè renders vede il gioco e gioca sempre pallo orizzontale non fa mai giocate banali cerca sempre la giocata offensiva che possa mettere i giocatori in porta era quel giocatore che ci è mancato tantissimo l'anno scorso la giocata per gli attaccanti per gli esterni renders questo lo fa con con una facilità imbarazzante cioè ieri era non voglio non voglio raga fare dei facili paragoni però alle geometrie di pirlo incredibile incredibile che scoperta raga che scoperta io non lo conoscevo infatti ho passato l'estate a dirvi io non parlo finché non lo vedo in campo oggi l'ho visto in campo e posso dirvi davvero che se avrà una continua crescita può davvero diventare un fuori classe love to check ha fatto molta quantità è un bel giocatore avendo una stazza fisica come la sua ci vuole un attimino di più per per carburare però a me piace molto può davvero darci quell'esperienza della premier che può fare la differenza quello che si è notato ancora anche ieri è che abbiamo un vertice basso un registra che elementare non si può dire che ieri crunic ha giocato male ma non ha manco giocato bene è stato elementare 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 non fa mai niente di più però quando si vince inutile far polemica bravo anche lui va benissimo così e gol di girù dopo ci sono state le occasioni le occasioni da rete perché lasciamo ancora troppi buchi perché cazzo davide calabria fa ogni tanto in fase difensiva fa delle dormite colossali che ci fanno prendere sempre degli infarti e anche questo raga io giocherei con calulu tutta la vita lì sulla destra tutta la vita calulu e grande mister stefano pioli perché solo io dico sempre solo quelli che si fissano su una cosa pioli out e continuano a dire pioli out pioli out pioli out pioli out no sbagliate raga quando si fanno le cose fatte bene bisogna dirlo bravo pioli che per la prima di campionato ha già messo i tre punti in tasca che non erano scontati e speriamo subito di farne altrettanti col torino per arrivare con una certa serenità poi alla partita contro roma e inter che sono due trasferte super insidiose però bravo pioli perché sta creando un calcio europeo un calcio offensivo dove si rischieremo anche molto però ci divertiremo anche molto perché è bello vedere un calcio propositivo detto questo ragazzi a me il milan è piaciuto è piaciuto molto milan che se fa questo calcio qui il giorno che troverà davvero bene l'amalgama potrà davvero dire la sua in questo campionato manca ad aggiungere i soliti tasselli che abbiamo detto tutti adesso il difensore è arrivato speriamo che sia un difensore forte che possa davvero dare un contributo vincente al milan che possa alzare la qualità di questo milan e dare e far rifiatare tomori o chav quando ci sarà la necessità una cosa invece la voglio dire anche sulle parole di mister stefano pioli e sulla crescita che voglio vedere dalle a o l'unica nota un po più stonata di ieri che non è che mi è piaciuto tanto meno sull'occasione dove poi abbiamo preso il palo quest'anno pulisic può giocare anche sulla sinistra quindi delle volte possiamo giocare con pulisic a sinistra e ciuquezza e sulla destra quest'anno le ha o metti la testa e giochi sempre al cento per cento o se no possiamo fare anche a meno di te in certe partite ed è la nota più positiva che possiamo avere uno perché servirà le ha o a crescere perché non è più l'unico vero fuoriclasse del milan e quindi dovrà sempre dare il cento per cento e due perché fino all'anno scorso quando ti mancava le ha o perdevi o perdevi o pareggiavi adesso abbiamo finalmente dei sostituti all'altezza raga sempre forza milan iscrivetevi al canale e pollice in su al benzinero